Il dottor Shola Moss Shogbe Mimu ha affermato che il principe Harry e Meghan Markle hanno vinto di nuovo in seguito ai rapporti che la regina ha esteso un ramo d'ulivo alla coppia, secondo quanto riferito, il monarca ha invitato il duca e la duchessa del Sussex a stare con lei a Balmoral durante la sua pausa estiva. Reagendo alla notizia, il dottor Moss Shogbe Mimu ha colpito dicendo che gli odiatori di Harry e Meghan digrigneranno i denti, il commentatore ha twittato, la regina invita Harry e Meghan a Balmoral con i loro figli. Virgolette. Se i veri nemici digrigneranno i denti perché non lo vogliono. Cancelletto Harry and Meghan vincono di nuovo. Il tweet della dottoressa Shola arriva dopo che la regina ha invitato i Sussex a rimanere nella sua residenza privata nelle islands scozzesi quando altri reali anziani non sono presenti. Un insider di Balmoral ha detto al Sun, al personale è stato detto di aspettarsi l'elenco completo dei reali, inclusi Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibet, si stanno preparando per i Sussex. Un'altra fonte ha detto, Balmoral è il luogo perfetto per trascorrere un po' di tempo di qualità con la regina. Punto. Hanno avuto a malapena 15 minuti con lei al giubileo. Tuttavia, un'altra fonte ha messo in dubbio se Harry e Meghan, che vivono in California dopo aver lasciato i doveri reali, sarebbero andati a Balmoral, hanno detto, sarei sbalordito se si presentassero. La regina trascorre tradizionalmente le sue vacanze estive a Balmoral nella Verdinshire, dove viene raggiunta da altri membri della famiglia reale. Arriva dopo che Harry e Meghan sono tornati in Gran Bretagna con i loro due figli per le celebrazioni del giubileo di Platino il mese scorso. La visita ha segnato la prima volta che la coppia ha viaggiato nel Regno Unito con Archie e Lilibet dai tempi di Magixit, tuttavia, i Sussex hanno mantenuto un basso profilo durante i festeggiamenti. E secondo quanto riferito sono tornati negli Stati Uniti prima che l'evento finale del fine settimana festivo fosse terminato. Harry e Meghan si sono stabiliti a casa nell'enclave delle celebrità di Montecito dopo aver fatto un passo indietro come reali che lavorano nel marzo 2020. e poi Grazie a tutti. Grazie a tutti.